Cosa è un vaccino? Il vaccino è un farmaco e questa è la definizione più importante ma cosa serve questo farmaco? Che tipo di terapia ci va a prescrivere? Allora per capirlo dobbiamo pensare un attimo al nostro sistema immunitario. Il nostro sistema immunitario è quel sistema interno del nostro corpo che ci difende da tutte le aggressioni esterne. Ebbene il sistema immunitario quando viene aggredito ha due tipi di risposta. La prima risposta è molto veloce però è debole. La seconda risposta invece che avviene quando il sistema immunitario ha perfettamente conosciuto la gente che lo sta aggredendo è molto forte, molto evidente però appunto come abbiamo detto è lenta. Bene allora che cosa fa il vaccino? Il vaccino fa in modo che si superi la prima fase cioè presenta al nostro corpo il virus, il batterio, il microrganismo che un giorno potrebbe aggredirlo. In questo modo il nostro sistema immunitario che ha una capacità molto importante che è la memoria se dovesse ripresentarsi quel particolare batterio, virus o comunque microrganismo non dovrà perdere tempo per conoscerlo ma lo aggredirà subito in maniera rapida ed efficace, quindi in maniera forte. E quindi dobbiamo tenere presente appunto che il vaccino svolge un ruolo fondamentale. Oggi se l'uomo può dire di essere ancora sul pianeta Terra lo deve proprio ai vaccini che hanno combattuto e vinto tantissime battaglie che noi oggi in parte sottovalutiamo, il morbillo che purtroppo in questi periodi sta ritornando in alcune zone appena abbassiamo la guardia oppure lo stesso vaiolo, ma ci sono vaccini nella storia dell'uomo che hanno permesso appunto all'uomo di essere superiore. Non bisogna aver paura degli effetti collaterali dei vaccini in realtà perché pensate che da un punto di vista percentuale il vaccino appunto identificato come farmaco è quello che presenta meno effetti collaterali e questa è la cosa più incredibile perché in realtà tutti parlano degli effetti collaterali dei vaccini quando invece un aspirina, un antibiotico, altri farmaci nella storia dell'uomo hanno causato dei danni enormi e continuano a casarlo. Ogni giorno noi abbiamo morti per effetti collaterali da farmaci. Non esiste farmaco al mondo che non abbia creato dei morti o degli effetti collaterali per i grandi numeri su cui ragioniamo. La percentuale degli effetti collaterali del vaccino è estremamente bassa da un punto di vista reale. Quindi vacciniamoci, assolutamente sì e facciamo in modo che il vostro sistema immunitario reagisca in maniera veloce, rapida e assolutamente efficace. A presto.